Il progetto Cinema Scuola, 4 anni, e a maggio 2024 vi sarà la presentazione di Partire dal territorio, partire dalle radici, ha detto nel suo intervento Claudio Gupitosi, ideatore 54 anni fa del Giffoni Film Festival, per obbligare i ragazzi alla felicità. Spiega, nel suo team 140 giovani lavorano ogni giorno al progetto, per tutto l'anno. Nuovi progetti per il Giffoni Film Festival, addirittura si pensa di stare un anno a Caivano, è un'idea veramente meravigliosa. Ma nei luoghi dove c'è bisogno di Giffoni che puoi andare a livello di spot. Adesso è il tempo che la politica faccia la sua parte, le istituzioni, si passerà anche alle nuove elezioni comunali. Io sto vicino a Don Paticello da tanto tempo, anche da quando Caivano non era oggetto ancora di notizia nazionale. Pensate che almeno 12 o 14 anni fa ho presentato il programma di Giffoni, sia da Caivano e l'anno successivo da Casal di Principe. Cioè luoghi dove c'è bisogno di poter dire che esistono anche altre cose. Noi siamo vicini alle comunità, ai giovani, alle ragazze e ai ragazzi di questi luoghi. Ma è chiaro che non puoi andare a fare uno spot, bisogna stare lì, bisogna vivere l'esperienza con questi ragazzi, bisogna creare gruppi che poi ce li portiamo a Giffoni così li possiamo fare conoscere e vivere insieme ad altri gruppi, insomma mondi diversi che debbono però unirsi.